Vuoli davvero parlare con te? Sei tornato? Sei con noi? Bene, è il momento. Il momento per cosa, Di Grazia? Il momento di unire i regni contro Odino. Una volta per tutte. Tyr ha cercato di unirli, il vero Tyr. Era ben voluto, ma persino lui ha fallito. Allora non possiamo fallire, o non rimarrà nessuno a poterci riprovare. Questo è il Ragnarok. E Odino conosce già tutti i nostri maledetti piani. Certo, abbiamo perso l'elemento sorpresa. Oltre a questo c'è un'unica via per Asgard e non passeremo inosservati. Il Gyalnarorn. Significa che entriamo dal Tempio di Tyr, qui. Il muro di Asgard è qua giù. Gli Einarir saranno schierati a presidiare lo spazio tra i due. E che significa che ci servono eserciti? Tutti quelli che vorranno accorrere. Armate che Odino non si aspetta. Solo per raggiungere il muro, per poter aprire una breccia, noi dobbiamo trovare Surtuola. Rattat Oscar ci ha procurato questo. Andremo noi tre. Io so dove cercare. Splendido. Alleati dunque. Su chi possiamo contare? Io andrò a Elheim per reclutare l'armata dei morti. E io tornerò ad Alfaim per unire gli Elfi. Niente di meno. Vuoi riuscire a unire gli Elfi dopo secoli di guerra? Beh, mi amano molto ad Alfaim. E tu? A Vanheim? Sì. Per cercare Sigrun e radunare le Valkyrie. Mi devono una esercito. Né Nifelaim né Jotenaim. Rimane solo Svartalfaim. Vado io a Svartalfaim. Sindri! Ne sei sicuro? Ho detto che vado. Così sia. Buona fortuna a tutti. Si va a Muspelheim in cerca dell'ultimo gigante del fuoco. Quasi invidio le ardue imprese altrui. Quasi invidio le ardue imprese altrui. Quindi sai dove cercare Surtur? Già, ho svelato i segreti del suo altare mentre ero a Muspelheim con Thor. Thor? Tranquillo, non mi ha visto entrare. Mi preoccupa altro. Ora ascolta, quando troviamo Surtur, dobbiamo convincerlo a unirsi con sua moglie, Sinmara. Unirsi? Già, loro due si... ...fondono. Creano un gigantesco mostro per distruggere Asgard. Oh no! Desolato. Ho alcuni dubbi relativi alle negoziazioni con Rasvelger e Eilail. Sono convinto che potrebbe essere più propensa a parlare con un membro dei... ...molti. Mimir, c'è bisogno di te. Oh, la morte ora è un'abilità? Immagino che questi due potranno cavarsela da soli. Fratello, se non ti dispiace... D'accordo. Molte grazie. Con voi ci vediamo. Ehi, credo di riuscire a scorgere la fucina di Surtur. La moglie di Surtur? Lei dov'è? Anni Felai. Credo. Au! Se andiamo verso questa torre, potremo scorgere la fucina. Attento! Auca! Evita ogni attacco! Mi chiedo se abbiano visto la loro profezia e si siano rintanati nei propri regni per combatterla. Comprensibile. Spero che capiranno perché il Ragnarok deve avvenire ora. Wow! Un seme di Yggdrasil per Muspelai. Dici che condurrà in quell'arena che abbiamo visto anni fa. Un seme di Yggdrasil per Muspelai. Un seme di Yggdrasil per Muspelai. Hey! Laggio! Spтора! Sp Scorsica! Sp enjoying. Sp restorare! Sponsistracchiamo! Sporgan ha mi bisogno! Spendあ cleement! Spend a «Parte»! P toutes iOS! Grazie a tutti Cambiamo! Schialpa! Con una feccia! La fucina sarà oltre la cascata di lava Come lo sai? Un presentimento Quando sono stato qui mi ero fatto un'idea della zona Dobbiamo essere pronti per surdo Nel caso non ci volessi aiutare Pronti? La profezia dice che lui e Sinmara si uniscono Ma chissà ora cosa penseranno? Vorresti provare a sottomettere questi esseri primordiali? Beh, non so La guerra non si vince senza di loro, giusto? Siamo vicini Riesco a sentire la fucina C'è qualcosa Sta pronto E' un fantasma Schiappa! Schiappa! Le sorgenti! E' il momento Riesco a sentire la fucina Schiappa! Fai a fuoco! Ma probabilmente lo sei già È scordito! Una delle sorgenti runiche è nascosta! Le colonne sembrano fragili, forse lì c'è una sorgente! Schiappa! A destra! Schiappa! 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 Doviamo distruggere le sorgenti! Bel lavoro. Sono... molto sudato. Troviamo Surtur. Deve essere lui! Chiediamo. Surtur! 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 Beh, o non è lui o ci sta ignorando. Andiamo! Salve! Cerchiamo un gigante. Andate. Che cos'è successo? Ehi! Non sei stato! Prima tocca a loro! Droger! A sinistra! Un altro! Forza! È il guardiano di questo regno! Hai il diritto di difendere! Padre, è dietro di te! Padre, è dietro di te! Vai a fuoco! Ma probabilmente lo sei già... Pietro! 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 No! Tanti questo ardito, è il tuo momento! Oh! Wow! Se quello è Surtur, avrà molto di cui rispondere. Come hai detto, lui ci serve. Io non vi aiuterò. Tu chi sei? Sono chi cercate. Quello che ne è rimasto. Perché non ci vuoi aiutare? Io non... voglio farlo. Spiegati meglio. Noi moriremo. Hai ragione. Perché hai tante cose per cui vivere. Io no. Lei. A cosa serve tutto questo? Te ne stai lontano da Sinmara solo per... attendere qui la morte? Almeno se ti unissi a lei... sareste di nuovo insieme. Noi siamo insieme. Ho il suo cuore. E lei ha il mio. Non è molto. Ma è abbastanza. ma tu non sei nemmeno... Sei mai stato innamorato? È molto bello. Così Odino vincerà. E tutti i regni tranne Asgard e Catarano. Già. Lui deve morire. È vero. Ma io non sacrificherò lei così come tu non sacrificheresti lui. Spiacente. Spiacente. Vieni. Aspettate. Quelle lame. Potrei vederle. Sì, c'è il fuoco primordiale in loro. Non sono di questa terra. Non importa. Sì. Può funzionare. Che cosa? Infilale qui dentro. E io diventerò il tuo mostro. Ma non voglio che lei sia coinvolta assolutamente. Ma la profezia dice che voi dovete essere uniti insieme. Sicuro che funzioni? Non ho altro per cui vivere. Non qui. Seguitemi. Non qui. Dove andiamo? Scintilla del mondo. Ossia Il luogo dove Nifelaim e Muspelaim si incontrano. Dove nacquero i primi regni. E qua non riuscite a passare, eh? Surtur? Surtur? San Prego. Meglio che camminare. Che cosa ci attende a questa scintilla del mondo? Magia. Roba primordiale. Con quella, le tue lame e il mio cuore. Andrà tutto bene. Divento grosso. Spacco tutto. Vi piacerà. Ma che succede quando cambi? Non lo so. Non sarò più me. Ma tu, o... Il nuovo te, come saprete quando attaccare Asgard? Hai il corpo. Vero? Già. Allora siamo a posto. Ah. Eccola. La scintilla del mondo. Ma è... Bellissimo. Ci vediamo di là. Sembra una scemenza. Odino sa del ghiallo a Rorn. Sa che hai la maschera. Ha ucciso Brock. E sa che avremmo cercato Surtur per iniziare questa guerra. Ma che altra scelta abbiamo? Nessuna. Sa anche quello. Ci siamo. E con Sinmara? Non dovremmo almeno avvisarla? No. Le farebbe troppo male. Più di non sapere cosa ti è successo. A volte... Amare... Significa... Scegliere... Il male minore. Ma non ha alcun senso. Promettete... Di starle alla larga. Lo promettiamo. Surtur, pugnalarti con le lame. Sarà sufficiente a creare questo nuovo te. Il cuore di Sinmara è freddo. Splendidamente freddo. Ora tuo padre ha il mio fuoco nelle lame. Se in lei entrerà abbastanza di me e della scintilla... Allora funzionerà. Ok. Venite. . Lame! Spostati! Questo farà male. Spostati! Adesso... la parte davvero dolorosa. Il mio fuoco... e il suo cuore. Unendoli insieme... avrai Ragnarok. Ci siamo. Molvo! L ... ... ... Quanto pensi che ci vorrà? Valkyrie! Le avranno mandate Udino! In genocchio! In genocchio! All'attacco! Vieni a te! Vieni a te! Vieni a te! Vieni a te! Basta! Vieni a te! In genocchio! Vieni a te! Vieni a te! In genocchio! Vieni a te! Dietro di te! Occhio! All'attacco! In genocchio! Vieni a te! Vieni a te! Aiuto! Oh, no! Oh! 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 Oh, no! Oh! Come, ebオ? Sorella! Padre mio, non sei indirizzo! Nella nuova ruota! Chiara! Ragazzi, tutti! Padre, aiutami! Indirizzo! Rauta! Rauta! Qui, salenda! Rauta! 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 La trattammatela! Molto bene! Madre! Madre! Perché non pari? Lascialo stare! Allora? Surtur, ci sei? Padre, vieni qui! Io sono Red Rock! Ci aiuti ad attaccare Asgard! Attendo la chiamata! Oh, grande! Hai sentito? Ci basterà chiamarlo con il Yalaror non appena saremo pronti. Torniamo a Muspelheim, lì potremo usare il passaggio mistico per il ritorno. Torniamo a Muspelheim, lì potremo usare il passaggio mistico per il ritorno.